amici di intertv.it bentornati da Michele Borrelli alle video news e bentornato a Massimiliano Marino ciao Massimiliano ciao Michele ciao a tutti i nostri ascoltatori naturalmente come state leggendo sul video tra Imbulà e Felipe Melo c'è stato un nuovo controsorpasso noi ieri vi abbiamo aggiornato con così l'ascesa delle quotazioni di Felipe Melo che ha superato Tiago Motta per la situazione di stallo che ha con il Paris Saint Germain a differenza del Galatasaray che invece potrebbe essere spinto più del Paris Saint Germain anche per monetizzare l'ultimo anno di contratto sia per Tiago Motta che per Felipe Melo Mancini tra l'altro che ha conosciuto il giocatore l'ha allenato al Galatasaray quindi così favorevole al suo acquisto anche per mettere il famoso uomo di personalità nel centrocampo dell'Inter però c'è un però l'Olympic Marsiglia che già si è vista sfumare un po di pretendenti per il giocatore che doveva mettere a posto il suo bilancio cioè Giannelli Imbulà il Valencia che ha preso un altro giocatore ma anche il Napoli anche lo stesso Milan lo stesso Napoli che forse stanno andando su altri giocatori Valencia come come dicevo quindi ci potrebbe essere la possibilità che il Valencia rimanga col famoso il Valencia l'Olympic Marsiglia col famoso cerino in mano e quindi siccome entro giugno loro la vogliono risolvere questa questa cessione hanno comprati il giocatore per 7 e mezzo potrebbero arrivare a miti consigli anzi sia dalla Francia ma anche nelle ultime ore risulta in Italia che il giocatore il giocatore la società si stia convincendo ad accettare le modalità di pagamento dell'Inter che sono cambiate perché perché se l'Inter avesse perso con Dogbia sarebbe andata a poter dare una parte importante di cash all'Olympic Marsiglia in questo caso invece chiede il prestito con diritto obbligo di riscatto il punto è però Massimiliano se in Boulà o il Marsiglia arrivano scendono a miti consigli e danno il giocatore così alla richiesta dell'Inter come la mettiamo con Mancini e l'uomo di personalità? Cioè Felipe Melo l'Inter ne ha tanti di centrocampisti già ne deve cedere almeno uno o due se poi ne arrivano tre nuovi e noi abbiamo detto uno va bene con Dogbia è più un interno arriviamo a due perché il regista è un ruolo ancora vacante eccetera eccetera però due a questo punto c'è da fare una scelta l'eventuale acquisto di in Boulà chiaramente a quel punto mette fuori gioco Felipe Melo tu dici che non c'è partita cioè Mancini non può ribaltare le carte in tavola allora l'unica questione che potrebbe far propendere adesso l'ago della bilancia verso in Boulà sarebbe solamente il costo il prezzo del cartellino che era quello secondo me un po' il nodo del rapporto tra l'Inter e l'Olympic Marsiglia di razionare? sì una soluzione come quella oggi in voga ossia del prestito con diritto di riscatto l'anno successivo potrebbe anche un ovvio un ovvio calo delle pretese da parte dell'Olympic Marsiglia sul prezzo del cartellino potrebbe far di sicuro propendere l'ago come dicevo della bilancia verso in Boulà perché? perché comunque è un giocatore di grandissima prospettiva ha solo i 22 anni ci pensa che con Dogbia e Kovacic sarebbe l'esperto perché un anno in più di Niko con Dogbia e due anni in più di Kovacic quindi un centrocampo da sogno, un centrocampo che porterebbe con due acquisti l'Inter a svoltare completamente ma soprattutto a portare al livello di un centrocampo di una grande squadra come la Juventus che ha uno dei centrocampi più forti d'Europa e tra l'altro perde Pirlo la Juve che tra l'altro perde Pirlo che firma l'anno prossimo lo perde sicuro il gioco del Barcellona è un giocatore che gioca pensando che deve andare via quindi la Juve può avere diversi cambiamenti l'unica cosa che inizialmente e quindi fino a stasera faceva propendere per Filippo Imero era il prezzo ed anche questa dimestichezza questa tenacia questa conoscenza questo riscatto la personalità stessa e la personalità stessa che aveva Filippo Imero che poteva quindi andare a colmare un po' anche quelle passatemi il termine carenze tecniche se ve ne sono chiaramente nelle caratteristiche di Kondogbia nel centrocampo dell'Inter ossia quell'uomo di rottura quell'uomo che possa dare i tempi e coprire le proiezioni degli altri due perfetto sulle caratteristiche di Imbula un mancino anche lui come Kondogbia due mancini è un giocatore che si inserisce un giocatore che però ha molto equilibrio lo stesso Viera ieri diceva è un giocatore che a differenza di Kondogbia che fa più da raccordo e naturalmente sprigiona la sua potenza andando in avanti qui non stiamo parlando di un brevilinio anche Imbula è il suo bel metro 86 quindi un giocatore imponente però con Bielsa è cresciuto molto anche tatticamente e quindi potrebbe fare il centrale nei tre o nei due noi abbiamo detto proprio in questi giorni l'ultima volta che l'Inter ha avuto due mancini nel 4-2-3-1 è stato con Motta e Cambiasso che erano grandissimi giocatori come lo vedi il centrocampo dell'Inter se arrivano tutti e due con Kondogbia e Imbula o con Kovacic o con Guarin o con Brozovic o con Hernanes mi dici le differenze e come li schiereresti? Allora con il centrocampo a tre sarebbe un centrocampo Kondogbia e Imbula Kovacic Allora sarebbe Imbula vertice basso di questo centrocampo con interno sinistro Kovacic ed interno destro Kondogbia più di Guarin e Brozovic interno assolutamente con questi giocatori qua io giocherei solo ed esclusivamente con questi giocatori e se arriva un attaccante con Shakiri e Cardi giochi a tre davanti quindi 4-3-3 Hernanes è di troppo però Hernanes sarebbe di troppo ma noi sappiamo che comunque c'è un giocatore visto l'arrivo di questi due centrocampisti uno già sicuro l'altro probabile molto probabile a quanto pare qualcuno dovrà pure uscire se non uno addirittura due tra Guarin e Hernanes e Kovacic il candidato più papabile è Hernanes ovviamente i primi accenni di questa possibilità li abbiamo avuti con i primi approcci con Dobbia con il Monaco dove era stato inserito appunto Hernanes infatti tu ci credi oggi Firmino anzi ieri Firmino ha ufficializzato con il Liverpool 41 milioni di euro che il Liverpool prenda un trequartista a 41 milioni e una mezzala che può fare il trequartista a 30 milioni che sarebbe Kovacic più a tutte le altre ali trequartisti questo è acquisto del Liverpool tra l'altro iper pagato questo Firmino ricordiamolo dell'Offenheim 8 gol in 33 presenze aumenta di gran lunga le possibilità di vedere Kovacic restare a Milano secondo me perché non credo che il Liverpool già avendo in rossa diversi trequartisti di attaccanti possa andare a svenarsi per l'acquisto di un giocatore promettentissimo e anche formidabile ovviamente come Kovacic immettendo su e tu sei stuzzicato dal centrocampo con Kovacic e i due nuovi acquisti cioè di vedere un Inter che sarebbe veloce dinamica forte fisicamente ma soprattutto ti garantirebbe una una lungimiranza di almeno 10 anni ma il rischio famoso della personalità Murigno diceva i giocatori non si valutano per la per l'anagrafe per la carta identità ma per chi è forte e chi è scarso in questo caso io andrei di più sul giocatore giovane ti dico la verità guarda io ti dico una cosa io penso che se si può scegliere la volontà di Mancini di optare per Felipe Meno era legata soprattutto per una questione economica perché capiva bene dice se nell'eventualità noi non dovessimo riuscire a prendere in volà allora il profilo più idoneo sarebbe quello di Felipe Meno per l'esperienza per il costo perché l'ho già allenato perché lui vuole vuole rifarsi della sua esperienza negativissima alla Juventus dove lo utilizzare in una posizione a lui non consona non è pirlo Felipe Meno appunto non è pirlo lo fecero giocare quasi da trequartista mentre avendo a che fare con una possibilità di prendere in volà ad un prezzo logico e ad un prezzo soprattutto in linea con quello che è l'obiettivo dell'Inter dopo aver speso i soldi per Condobbià io penso che anche Mancini voglia assolutamente questo giocatore di 22 anni che ti garantisce quantità e qualità se un giocatore che ha fatto la storia del calcio francese come Vieira dice che Pogba in volà e Condobbià sono i tre più grandi giocatori centrocampisti francesi dei prossimi anni e tu ne prendi due su tre cioè io credo che staremmo veramente messi benissimo per anni almeno dieci anni sono assicurati ma l'unico problema che io posso vedere non è non è chiaramente nei giocatori nel costo è se dovessimo giocare con il 4-2-3-1 tanto amato da Mancini perché in questo caso avremmo la difficoltà sarebbe invece Kovacis sarebbe quella di identificare o meglio di trovare la posizione a Kovacis perché noi avremmo i due davanti la difesa che sarebbero perfetti tra l'altro in volà e Condobbià l'unica qualcuno storce il naso perché sono due mancini quindi magari la loro visione del gioco potrebbe essere un po' limitata essendo dei mancini però ne abbiamo avuto l'esperienza di Tiago Motto col Monaco ho visto Condobbià Tullalan Mutigno cioè Mutigno sarebbe il cover c'è la situazione in Boulin speriamo tatticamente possa diventare un giorno come Tullalan io ho avuto un'intuizione io ho avuto un'intuizione perché Mancini tendenzialmente quando gioca con il 4-2-3-1 il terzo o meglio il centale il trequartista lui dice sempre Massimiliano cambia poco tra 4-3-3 4-2-3-1 magari il rombo è un altro modulo ma il 4-2-3-1 e il 4-3-1 lui dice sempre dipende da come interpreta uno dei tre il ruolo cioè di interno anche Sneijder Sneijder faceva nell'Olanda il terzo di centrocampo nell'Inter ha fatto il trequartista dietro la punta però è un giocatore a cui piaceva fare tutti e due a cambiare lui in campo la posizione quindi può diventare Kovacic questo giocatore assolutamente allora se noi riuscissimo e se Mancini riuscisse a far capire questo a Kovacic ossia che lui facendo il terzo dietro perché lui dietro la punta soffre deve tornare indietro se lui riuscisse a fare questo movimento di andare nella fase di senza palla del senza possesso dell'Inter di riuscire ad arretrare e ad aiutare i due centrocampisti nella fattispezione in Boulat e con Dubbià sarebbe un centrocampo perfetto perché ti garantirebbe copertura ma nello stesso tempo delle ripartenze diciamo che conterà molto anche capire chi c'è con i cardi davanti se Shaqiri e Palasio se due nuovi acquisti se arriva Salah se arriva Iovici io penso la perfezione sarebbe Salah a sinistra e Shaqiri a destra sarebbe una squadra una squadra che potrebbe far sognare veramente i cardi 93 i due attaccanti 91 e 92 a centrocampo un 92 93 e un 94 in difesa è arrivato Murillo Michele io rispolvererei la frase avremo da spellarci le mani cioè sarebbe un Arsenal che però non ha nello stesso campionato nello United nel Chelsea e nelle altre competitor Manchester City che ci sono i competitor che ci sono io penso che non siamo lontani da questa Inter non siamo lontani da questa Inter speriamo ce lo auguriamo naturalmente ad oggi così registriamo il sorpasso proprio nella nottata di Imboulas su Felipe Melo però vi teniamo aggiornati le parti sembrano vicinissime perché il mercato fin quando non si firma è sempre tutto ribaltabile l'abbiamo visto in tutte le trattative intanto grazie a Massimiliano Marino grazie a te Michele grazie a tutti i nostri ascoltatori e a presto con le prossime video news con i nostri focus in questo caso sul mercato grazie a tutti i nostri